Ecco la testimonianza al processo di Amber Hard. Vediamo qua tutta una serie di gestualità quando lei parla, guarda gli occhi, butta gli occhi verso il basso, aggrottamento delle sopracciglia, tutti i segnali di menzogna, poi vedete che gli occhi vanno necessariamente alla sua destra, quindi si sta inventando la risposta. Ecco, vedete che anche le ciglia sempre aggrottate, questo è un segnale, occhi verso l'alto, sono tutti segnali relativi alla menzogna, quindi praticamente la deposizione di Amber Hard è stata una menzogna continua, praticamente, come vedete durante il processo continua sempre a buttare gli occhi a destra, aggrottare le sopracciglia, quindi in questo video noi manteniamo completamente, diciamo, azzeriamo l'audio proprio per vedere il tipo di risposta non verbale che dà la H.E.R.D. e come vedete Johnny Depp che ascolta è molto assorto, invece nel suo dialogo interiore cerca di cogliere quali sono le risposte della H.E.R.D. con ovviamente un suo legale che lo assiste probabilmente e continua la deposizione di H.E.R.D. eccola qua, vedete anche una leggera smorfia e tra l'altro anche un movimento di scuotimento della testa mentre lei risponde come se la sua parte analogica negasse quello che lei sta dicendo, quindi in tutto quello, in tutto questa, diciamo, deposizione, sottolinea quindi una menzogna completa che la H.E.R.D. sta portando avanti durante questo processo. D'altra parte questo tipo di esposizione non è per nulla credibile e anche la giuria poi ovviamente se ne è resa conto, perlomeno inconsciamente, perché anche se non ci rendiamo conto consapevolmente abbiamo dei meccanismi per rendercene conto inconsciamente. Questa è l'Avvocato, diciamo, che la, diciamo, sollecita le domande, incalza le domande della H.E.R.D., alla H.E.R.D., domande che evidentemente la mettono molto in crisi e alle quali lei risponde praticamente quasi sempre con menzogne, ciglia sempre grottate, anche atteggiamenti altezzosi, come a ritenersi superiore. L'atteggiamento, la smorfia costante che sta facendo è anche una smorfia tipica del narcisista, il sorriso malcelato, il sorriso nascosto del narcisista che indica proprio questo tratto, che tra l'altro, ecco qua, vedete, questa non curanza, comunque bere l'acqua, aggrottare sempre le sopracciglia, girare continuamente la testa, guardare, poi rispondere, girando la testa di lato, all'interlocutrice, colei che la sta sottoponendo, diciamo, a questo interrogatore, a queste domande. Quindi, tra l'altro, mentre lei afferma con un gesto altezzoso, alza il mento, come da voler guardare con gli occhi dall'alto verso il basso, con una smorfia, diciamo, di altezzosità, superiosità, senso di grandiosità della herd che vuole manifestare, così, cercare di manifestare il suo essere superiore alla persona che la sta in qualche modo interrogando, alla persona che la sta in qualche modo giudicando e che vuole farle capire, insomma, quelle che sono il limite.